un cordiale saluto a voi lettori di blog sicilia e benvenuti a questa puntata di talk sicilia l'approfondimento giornalistico della nostra redazione oggi dedicato ad un tema particolare ad un focus su una borgata che logicamente con l'arrivo dell'estate diventerà centrale ovvero la borgata marinara di mondello qui in studio con noi due ospiti il presidente della sesta commissione ottavio zacco che ringraziamo di essere con noi grazie a voi grazie e il componente dell'associazione aiace eduardo marchiano benvenuto buonasera e grazie dell'invito e allora i temi da trattare sono tanti ovviamente mondello è il cuore pulsante di palermo durante la stagione estiva e quindi ovviamente non si può non parlare di Movida di quella che è la pedonalizzazione della zona traffico limitato ma anche di un problema atavico che riguarda la borgata marinara come quello degli allagamenti e partirei da qui da questo tema dal fatto diciamo di questa rete fognaria che ancora ad oggi presenta delle criticità anche ataviche no? Dottore Marchiano Esatto esatto Sì sono temi ben noti alle nostre borgate di Mondello, di Partanna, di Valdesi quindi dove noi ci siamo molto impegnati negli anni sotto questo profilo la pedonalizzazione di Mondello è uno dei temi che abbiamo anche affrontato in questi anni è uno dei punti, dei dieci punti che noi da anni ci occupiamo del completamento di via e pace siccome per noi la pedonalizzazione è importante perché parliamo di vivibilità è di assetto urbano stradale e quindi questa arteria, completare questa arteria significa favorire anche la pedonalizzazione favorire un assetto urbano è un ripensamento di questa borgata di Partanna Mondello che da troppi anni vive nel degrado socio-urbano e abbiamo strade incomplete non soltanto questa arteria che è strategica che parte in maniera trasversale da Piazza Bolivar e collega Mondello con la via Palinuro, altra strada che qualche anno fa è stata fortunatamente aperta questa strada toglierebbe dal degrado, dalla congestione, dal traffico Partanna Mondello e collega l'autostrada con Mondello quindi favorirebbe anche l'accesso sia in ingresso che sia in uscita favorirebbe la chiusura anche della favorita perché creerebbe un circolo anulare in modo che se io da Palermo o da Via Lanzia di Scalea o dall'autostrada devo andare a Mondello è una delle strade importanti dove io potrei percorrere parliamo di un'arteria a larga 20 metri, parliamo di un'arteria che costeggia le montagne, Capogallo quindi proprio sotto via Spina Santa per chi conosce il territorio quindi una soluzione ad un tema tapico come quello della viabilità esatto e agli allagamenti, poi passa attraverso la zona industriale che oggi è Zesse quindi favorirebbe uno sviluppo socio-economico da che punto di vista favorirebbe la risoluzione del tema degli allagamenti? perché passando sotto questi monti, che è Capogallo l'acqua che raccoglie la montagna e che poi arriva più a valle nella parte più depressa come ad esempio via Santo Canale, via Eolo e via Esperia dove anche con il consigliero Ottavio Zacco a volte abbiamo affrontato ultimamente siamo stati anche in commissione attività produttive dove abbiamo parlato anche dei problemi delle attività risolverebbe perché lungo questa arteria dove già è stata costruita qualche anno fa realizzata qualche vasca, quindi un po' attenua verrebbe realizzato un canalone lungo questa arteria dove è possibile in corrispondenza con le strade che scendono da Monte che sono via Santo Canale, sono via Spina Santa, sono via Omero due anni fa proprio nell'ultimo allagamento di ottobre del 2021 noi abbiamo, cioè si è scongiurato il peggio perché è arrivata una bomba d'acqua ricordiamo agli amici da casa l'allagamento che coinvolse il quartiere la borgata di Partanna Mondello che appunto a causa di un acquazzone diciamo torrenziale col piccaburgo siciliano si registrarono anche punte di 50 centimetri d'acqua d'altezza no Ottavio, voi vi siete occupati spesso del tema del ferro di cavallo di Mondello degli allagamenti, del tema di fondo verde qual è il punto della situazione? sì, noi in realtà cerchiamo di trovare una soluzione da tempo devo dire che con la nuova sindacatura, col sindaco Lagalla con l'assessore lavori pubblici Orlando ci siamo da subito seduti uno dei primi temi affrontati è stato proprio questo degli allagamenti e devo dire che insieme ad AMAP, insieme all'università di Palermo oggi si sta portando avanti un progetto che sicuramente risolve in maniera definitiva al problema degli allagamenti perché purtroppo sappiamo bene che gli allagamenti di Partanna, Mondello e Valdesi non sono legati a un unico problema, ma sono più di uno il primo è quello che manca il recapito delle acque piovane quindi in questo momento arrivano le acque pure di Pallavicino a Partanna, Mondello non fanno altro che un giro fra il depuratore di Fondo Verde, via Palinura e tornare indietro ma è chiaro, ecco perché c'è pure uno sversamento di liquami poi a Piazza Casselforte sappiamo bene che il problema del ferro di cavallo risolverebbe solo ed esclusivamente il problema allagamenti Mondello ma non di certo quelli di Partanna a Partanna appunto per questo abbiamo coinvolto l'università e ringrazio il sindaco per questo e si sta portando avanti un progetto dicevo che riuscirebbe a raccogliere le acque piovane direttamente a monte con dei canali e poi c'è un progetto sulla riconversione del depuratore di Fondo Verde e quindi diciamo poi alla fine complessivamente dovremmo ridurre totalmente a zero gli allagamenti non solo di acque piovane ma oggi purtroppo abbiamo anche liquami quindi non è solo acqua bianca Sul fronte invece della viabilità nell'ultima finanziaria regionale si è anche discusso su questo tema di questa arteria di collegamento di via Nicoletti un tema affrontato anche dall'assessore Tamayo a livello regionale in che modo potrebbe migliorare la viabilità del contesto della settima circoscrizione? Sicuramente risolverò il problema di collegamenti con Sfera Cavallo in maniera definitiva in questo momento Sfera Cavallo ha un unico imbuto che è la via Sfera Cavallo e sappiamo benissimo che nei fine settimana diventa un delirio non solo per i residenti ma anche per chi attraversa Sfera Cavallo per andare a isola ed è anche pericoloso perché comunque anche i mezzi di emergenza abbiamo visto in questi ultimi periodi che ai fine settimana hanno difficoltà a raggiungere Sfera Cavallo e questo è uno dei progetti così come via Palinuro seguito interamente dall'inizio è passo passo dal nostro gruppo e ormai siamo in dirittura d'arrivo aspettiamo gli ultimi pareri per fare in modo che l'opera diventa cantierabile e poi trovare il finanziamento con la regione siciliana Ecco abbiamo nominato Sfera Cavallo ovviamente il riferimento potrebbe anche andare anzi va sicuramente a quello che è l'aspetto delle borgate marinarie a quello che è stato l'attenzione dedicata dall'assessore Forsinetti al tema della Movida da questa volontà trasmessa dall'esponente della Nuova DC di trasferire tra virgolette parte diciamo del divertimento notturno della città verso le borgate marinare ecco tra le borgate marinarie di Palermo rientra chiaramente anche quella di Mondello quindi chiedo al signor Marchiano qual è la sua opinione in merito presumo diciamo da cittadino diciamo oltre che da componente dell'associazione civica la nostra idea e io spero ecco che qui oggi passi questo messaggio che quando si parla di Mondello non si tralascino gli altri territori perché se noi andiamo indietro nella storia nasce prima partanna Mondello come quartiere Mondello piano piano poi si popola ecco quindi siccome partanna ormai con le seconde case con i turisti le molte attività produttive che stanno nascendo perché diventano come si dice costola di Mondello perché tanti non trovano posto a Mondello e trovano posto a Partanna ecco perché partanna oggi è importante che si ripensi in un'altra maniera e noi dice ma voi battete sempre sì battiamo su via Iace perché per noi è un'arteria strategica e Mondello ne gioverebbe tanto su questo ecco perché è importante noi abbiamo lanciato anche una nostra proposta e il consigliere Zacco la conosce bene anche di far passare la linea del tram la linea E2 oggi che è stata insomma rivista e rimodulata che non deve passare soltanto dallo Zenne da Mondello passare dallo Zenne da Mondello e ritornare su via Iace completare questa arteria cioè non è soltanto vedere questa strada completata ma tutti i benefici che questa strada sicuramente porterà gioverà anche alla borgata di Valdesi la pedonalizzazione ecco per riprendere la questione della pedonalizzazione noi non siamo mai stati convinti della chiusura totale del Viale Regina Elena ma chiudere alcuni punti e con alcuni orari ok perché noi abbiamo visto negli ultimi due anni che chiudere completamente Viale Regina Elena significa svuotare svuotare questa strada e perché abbiamo noi da Piazza della Sirenetta a Via degli Oleandri dove c'è la ma dove ci sono tutte le attività e fare in modo che alla Via degli Oleandri cambi senso cioè e diventi al contrario della Via Principe di Scalea subvia la Regina Elena chiudere questo pezzo vitalizzare questo pezzo comunque all'inizio perché se tu chiudi e poi non crei delle attività dello sport dei ragazzi giovani a passare insomma e a creare le condizioni per poter stare lì non faremo nulla ecco in effetti da questo punto di vista l'assessore Carta ha riconosciuto che la pedonalizzazione messa in campo negli ultimi anni aveva dei limiti ecco anche da un punto di vista di attrattività mancavano delle attività che attressero la gente i turisti, i cittadini verso la borgata marinale di Mondello con diciamole poi la strada che si svuotava e la gente continuava a camminare sul marciapiede ecco Ottavio la pedonalizzazione ora fra poco entrerà in bigo e siamo ormai nel periodo in cosa potrebbe essere migliorata? io credo intanto che una buona amministrazione non può limitarsi a valutare solo la pedonalizzazione in una località balneare perché parliamo di quartieri dove in tre mesi l'anno sono vissuti del 300 aumento del 300% di presenze giornaliere rispetto alla media del quartiere e non credo che si possa fare nemmeno differenza fra Mondello e Sfera Cavallo questo è il motivo per cui io insieme alla consigliera Meli abbiamo chiesto l'istituzione di un tavolo tecnico non limitandolo solo alla pedonalizzazione delle borgate ma allargandolo a tutta la giunta tavolo tecnico condiviso con il sindaco avremo la riunione a brevissimo proprio perché bisogna riorganizzare questi quartieri Mondello noi abbiamo visto che ci sono state delle ordinanze che hanno pedonalizzato dei tratti stradali in lungomare e lo hanno totalmente desertificato perché non c'è stato nulla invece noi riteniamo opportuno che bisogna intanto partire dalle manutenzioni ordinarie dalle manutenzioni straordinarie riteniamo che sia utile intanto incrementare anche la raccolta dei rifiuti in queste località perché nel periodo estivo ripeto ci sono migliaia di presenze giornaliere incrementare i collegamenti con i mezzi pubblici avere la presenza della polizia municipale avere la presenza di un'ambulanza che sicuramente mette in sicurezza delle vite pensare in tempo alle potature ai diserbi purtroppo questo è mancato in questi anni e con la nuova amministrazione si sta lavorando proprio su questo certo siamo limitati per questa stagione estiva perché purtroppo ancora non abbiamo il bilancio abbiamo approvato quello dell'anno scorso come ben sai finalmente il comune di Palermo ha un bilancio stiamo lavorando per approvare quello di quest'anno sicuramente la prossima stagione balneare partiremo con la massima attenzione rispetto alle località balneari per quanto riguarda la pedonalizzazione l'assessore Carta che ringrazio insieme al sindaco che gli ha dato mandato ha già incontrato la circoscrizione con le associazioni con i comitati con i residenti e dalla sono avute fuori una serie di proposte c'è stato un comunicato stampa dove invitava tutti poi non lo so il presidente non siamo riusciti a sapere ci sarà una nuova riunione magari c'è stato un confronto c'è stato un confronto con le attività produttive a giorni ci sarà questo tavolo tecnico dove avrò io il privilegio di partecipare in qualità di presidente della commissione attività produttive ci sarà il presidente della commissione urbanistica e insieme decideremo cosa cosa fare ripeto è fondamentale e ho chiesto il coinvolgimento dell'assessorato al turismo e alla cultura perché le località balneari hanno bisogno anche di un programma estivo che devono diventare località attrattive non possiamo limitare solo al mare alla spiaggia attrezzata e poi ai ristoranti ecco appunto diciamo come attrattività si pensa diciamo nel periodo estivo anche logicamente vista la presenza dei turisti anche alla Movida questa volontà di portare la Movida verso la spiaggia nottavia potrebbe tra virgolette trascinare quel pubblico che appunto manca in questo momento magari nelle ore notturne si pone chiaramente un problema di collegamenti noi questa mattina per esempio abbiamo visto la fermata dell'806 di Piazza Croci completamente piena un autobus non c'era quindi immaginiamo cosa possa essere diciamo raggiungere Mondello nelle ore notturne si pone anche un problema dei collegamenti all'interno della città assolutamente sì a brevissimo penso che partiranno già le sei i sei mezzi in più che collegano la città con Mondello come stagione prevista per la stagione estiva ma è importante anche rimettere le navette gratuite che la precedente amministrazione aveva tolto che colleghi Partanna con Mondello coinvolgendo anche i parcheggi via Le Galatea il parcheggio sotto Montegallo ma anche via Le Venere dove comunque si può anche utilizzare per parcheggio sulla Movida non è proprio vero che l'assessore o comunque l'amministrazione vuole spostare la Movida verso le località balneari assolutamente noi stiamo lavorando su un regolamento che manca in questo momento non esiste per cercare di dare delle regole alle attività quindi a coloro che investono nelle attività produttive e per garantire anche la tranquillità dei residenti Palermo oggi non ha non ha un regolamento non è andata avanti a forza di ordinanze sindacali di ordinanze dove più che altro vietavano anche l'ingresso delle persone in alcune piazze della città ma abbiamo visto che in altre piazze invece poi c'è stata un'esplosione di abusivismo dove non c'erano assolutamente i casi per esempio della Vucceria della Magione di qualche anno quindi l'obiettivo è quello di regolamentare la Movida nella città di Palermo e la quinta città d'Italia ed è chiaro che nel periodo estivo tutte le località balneari devono avere un orario più flessibile rispetto al centro storico E allora Edoardo Macchiaro facciamo una domanda semplice vista il consigliato che poco fa chi diceva che alla riunione diciamo che ha avuto l'assessore carta con i principali attori della settima circoscrizione lei non c'era le pongo una domanda se lei fosse stato presente a questa riunione cosa avrebbe voluto dire l'assessore Allora noi già con l'assessore c'eravamo già visti a ottobre o novembre a gennaio noi abbiamo avuto commissione siamo stati in commissione urbanistica a febbraio in commissione attività produttive e noi abbiamo depositato una nostra proposta di riqualifica con tanto di riferimenti di fotografie per quanto riguarda perché noi non siamo quelli che si lamentano e basta noi nella nostra azione da quando siamo nati con questo scopo abbiamo cercato sempre sì di portare la denuncia di portare la sollecitazione all'amministrazione ma a seguito di questo abbiamo portato delle proposte cioè delle idee noi per anni oltre a via Iace ci siamo interessati del cotonificio siciliano che oggi insiste nella zona industriale di Partanamondello che è ZES zona economica speciale dove chi investe in queste zone ha quella particolarità di avere di subire burocrazia di subire quella pressione fiscale ecco quindi con tante agevolazioni quindi le attività hanno interesse le imprese ad investire lì il cotonificio finalmente dopo anni dopo essere stato in commissione anche ambiente per tante volte vicepresidente l'onorevole Tamayo dove è stato molto incisivo in questa in questa azione quando è stato tolto l'amianto che ricopriva i tetti l'anno scorso il presidente della regione uscente la giunta Musumeci il primo aprile del 2022 sono stati lì per un sopralluogo perché noi lo abbiamo sempre denunciato questo quindi abbiamo sempre scritto alle istituzioni al sindaco al presidente per sollecitare queste questioni perché per noi sono state sempre importanti per la risoluzione di tanti problemi tant'è che da lì a giugno hanno con una delibera di giunta hanno messo un capitale 400 mila e rotti per un concorso di idee dove lì finalmente si è scongiurata la demolizione non sono state fatte quei 233 appartamenti che dovevano essere fatti in un contesto industriale che per noi era benorme anche perché andava a gravare ulteriormente nella rete fognaria che non esiste perché non ha recapito come diceva il consigliere poco fa e sarebbe stato per noi una sconfitta vederlo ecco demolito perché lo riteniamo importante nella memoria nella storia socio-economica di ciò che è stato il cotonificio siciliano per noi in Sicilia dove è nata Sicindustria quindi recuperare la memoria con questo progetto con questo concorso di idee che già al secondo grado vedrà presto luce su chi vincerà ecco la commissione si è riunita qualche giorno fa per decidere quale sarà il miglior progetto per dare una risposta e in questo progetto è prevista l'apertura a monte di via Iace quindi se la regione e se il comune l'assessore Carter l'assessore Orlando con l'assessore Aricò e l'assessore Damaio riescono a riunirsi in un tavolo sicuramente verrà molto più semplice aprire questa strada anche in due stralci uno stralcio nella parte della zona industriale dove tutte quelle attività che hanno chiuso negli anni proprio per la mancanza di questa strada per la mancanza di servizi come ultimamente l'Idol che da lì da via Iace si è spostato in via Nicoletti dove avrà più lustro dove avrà sicuramente opportunità migliori e allora ci avviamo verso la conclusione e a proposito di riapertura Ottavio la memoria va al presente a quello che è il prossimo futuro e via Margherita di Savoia la licenza di Valdesi si è aperta da poco la fase 2 e te ne sei occupato tu con la tua collega di partito Caterina Meli a che punto sono i lavori quali sono le prospettive di riapertura ma guarda ci sono passato poco fa per venire qua e devo dire che la ditta finalmente il comune di Palermo ha dato un appalto a una ditta serie anzi approfitto per ringraziarli ringraziare il direttore dei lavori perché stanno andando veramente stanno procedendo con tempi rapidissimi e proprio ora stavano cercando di riaprire la strada credo per domani perché stavano cercando di togliere i pericoli dalla strada io penso che sarà riaperto a brevissimo quindi diciamo in maniera definitiva oppure per le festività ma ormai in maniera definitiva resta solo poi la necessità di chiudere temporaneamente per l'installazione dei pali lo scavo è già quasi tutto completo le buche per mettere i pali con i plinti sono già predisposte quindi poi occorrerà il tempo giusto per mettere i pali e poi fare i collegamenti dell'impianto elettrico con tempi veramente rapidissimi attendiamo quindi che la ditta possa concludere i lavori per il momento ringraziamo gli amici telespettatori che ci hanno seguito ringraziamo il consigliere Zacco per essere stato con voi con noi e il dottore Marchiano signore Marchiano come vuole essere chiamato grazie grazie veramente vi ringraziamo per il tempo che avete dedicato a seguire la nostra trasmissera e vi invitiamo a seguirci sulle colonne i blog Sicilia buona serata